Ben arrivato a Parma, Felix, come ti stai trovando nella squadra e in che condizioni sei? Sì, tutti qui sono buoni persone, i miei amici sono buoni, aiutano con la piazza, tutto, nel ristorante, è una buona squadra, credo che facciamo tutto bene quest'anno. Sì, qui si sta creando un bel gruppo, ho trovato un buon gruppo, tutti mi aiutano ogni giorno da quando sono qui a lavorare bene in campo e a performare al meglio in campo. Tu sei pronto per giocare fisicamente? Potresti giocare già anche domenica? Sì, sono pronto, sono pronto, ritengo di essere già al 100% e quindi di poter dare, in caso, il mio contributo. Quando ti è stato prospettato di venire al Parma, sapevi anche che c'è un allenatore di un certo tipo che fa giocare la squadra molto in attacco, che poteva forse valorizzare le tue caratteristiche? Sì, ho parlato con alcune persone e ho chiesto del coach e tutti mi hanno detto che è un buon coach, ha una buona mentalità. Sì, ho chiesto un po' informazioni sul mister ancora prima di venire qua, mi piace il suo modo di lavorare, mi piace la sua mentalità. Ho visto anche delle interviste di Guardiola, che parlava appunto di Maresca quando era al City e quindi insomma mi piace il suo modo di fare e mi sto trovando molto bene qui con lui. Quando sei arrivato alla Juventus e ti sei allenato con la prima squadra, hai potuto lavorare a contatto con Cristiano Ronaldo, che immagino sia sempre stato un po' un tuo idolo, visto che come te hai cresciuto nello sport in Lisbona, quindi gioca in un ruolo simile al tuo. Ecco, come è stato giocare vicino a lui? Sì, è un buon esperienzo perché è un buon person anche, ogni giorno ha parlato con me, ogni giorno ha spostato per me, per la mia carriera, ha parlato con me, ho parlato molto con il team e il team, perché la Juventus' prima squadra è un buon team, ha esperienziato con la squadra, Buffon, l'ultimo anno ha Chiellini, l'ultimo anno ha Buonucci, l'ultimo anno ha parlato con tutti. e Cristiano è il miglior giocatore del mondo, è normale, ho parlato con lui. Sì, beh, Ronaldo è uno dei migliori del mondo, sono uno dei migliori del mondo, quindi ho parlato molto con lui e lui mi ha spronato molto nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme alla Juventus, altronde parliamo di un club come la Juve dove hanno lavorato gente come Buffon, che adesso è qui, Chiellini, Buonucci, quindi sicuramente per me è stata una bella dose di esperienza poter lavorare con lui. Quanto ti è servita l'esperienza dello scorso anno in Serie C? Sì, credo che la SLC mi ha aiutato molto, mi ha aiutato a cambiare la mia mentalità, la mia capacità, la mia futbol, e credo che questo per i prossimi anni è anche importante. Sì, beh, mi è servita molto, mi è servita molto, mi è inciso molto sulla mia mentalità e anche sul mio modo di giocare a calcio e sono certo che questa esperienza che ho incamerato mi servirà molto per le prossime due giorni. Qual è la tua posizione preferita in campo? Left winger, right winger, posso giocare numero 10 anche, tutto. Beh, diciamo, esterno destro, esterno sinistro, ma posso anche giocare con la posizione numero 10. L'ultima da parte mia, che effetto ti ha fatto ritrovare Gianluigi Buffon anche al Parma? No, Gigi è una buona persona, è sempre giochendo, ha sempre buoni vibri, anche se sono felice di essere qui con lui, è una grande legenda nel futbol, e credo che Gigi va a aiutare la squadra anche per i prossimi due o tre anni. Beh, è una gran persona, poi a lui piace sempre anche scherzare molto, quindi si creano anche sensazioni positive, poi insomma è una leggenda del calcio, quindi sicuramente lavorare con lui è tutto di guadagnato. Io ti chiedo, cosa ti aspetti dalla tua stagione? Sì, penso che è una stagione difficile, ma credo che il team funziona bene, in una buona forma, per andare in Serie A, ma la Serie B è difficile, noi dobbiamo concentrarsi ora, in questo anno, ma credo che il grande obiettivo di questo anno è andare in Serie A. Beh, insomma, non sarà una stagione facile, è chiaro che noi stiamo lavorando per cercare di riportare il Parma in Serie A, ma non dobbiamo pensare a quello che succederà, dobbiamo pensare a quest'anno e restare molto concentrati su questa stagione, perché è un campionato molto difficile. Tu sei destro o ambidestro? Sì, io scelgo con la right, ma posso giocare con la left anche. Per calcio anche di sinistra? Sì, sì. Sì, sì, destra diciamo, però usa anche il sinistro tranquillamente. Senti, un'ultima cosa da dirti. Qui a Parma abbiamo avuto diversi portoghesi importanti, no? Il primo è stato Couto, poi c'è stato Consei Sao, che adesso allena ad alti livelli, Paolo Sousa. Ecco, arrivi dopo tanti bei nomi nei tuoi connazionali. Sì, sì, ho avuto Bruno Alves l'anno scorso, Bruno Alves è un buon professionale, ho avuto Paolo Sousa, Consei Sao, ho avuto anche un grande giocatore a Parma. Sì, beh, c'è stato Bruno Alves, che è stato un grande professionista, ce ne sono stati tanti che hanno dato il loro contributo con un grande professionismo a causa del Parma. Grazie. 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 Grazie.